Quello che è emerso dal tavolo di oggi è che non si possono togliere risorse oltre un certo limite alle regioni che in questo momento sono il traino dell'Europa e soprattutto non possono esserci all'interno dell'Europa fenomeni di divaricazione fiscale così clamorosa, cioè il fatto che ci siano realtà che hanno anche dumping, chiamiamolo fiscale, così elevato perché altrimenti andremo a creare fattori di concorrenza sleale anche all'interno dell'Europa. Quindi quello che stiamo facendo noi è un lavoro che poi porteremo ai tavoli del Comitato delle Regioni nei confronti con la Commissione Europea perché appunto queste diversità, se siamo in un'Europa unica, non devono esserci e soprattutto guardando alla situazione nazionale italiana, il fatto che ci sono diversità così clamorose fra le regioni locomotiva e quelle che invece hanno più la funzione di palla al piede rispetto al processo di compartecipazione delle spese dello Stato. In una logica nella quale la diversità dei territori per potenzialità economiche e anche per potenzialità di sviluppo dovrebbe oggi essere valorizzata in chiave di traino complessivo del sistema, rischiamo un'involuzione opposta e questo è ovviamente un punto sul quale come sistema delle regioni e dei consigli regionali italiani sicuramente ed europei nella logica di un confronto aperto saremo vigili e porteremo le nostre proposte. Nel 1999 noi avevamo una produzione industriale manifatturiera distribuita su tutta l'Europa, tutti i paesi avevano delle parti molto importanti di industria manifatturiera. Dopo 14 anni, nel 2013, l'industria manifatturiera praticamente scompare in Europa e rimane solamente nell'area nord italiana, la nostra, e nell'area centrale della Germania. Se noi rapportiamo questo dato negativo perché l'industria manifatturiera è fondamentale per lo sviluppo e il mantenimento dello sviluppo di un paese e delle regioni, soprattutto quelle più ricche che poi aiutano le più povere, se lo rapportiamo al dato 2030 dove nel G8, cioè nel gruppo dei paesi più produttivi del mondo, non ci sarà più nessun paese europeo, si capisce il perché di questo incontro se non garantiamo condizioni di sviluppo all'Europa, l'Europa è destinata nei prossimi decenni ad entrare nella povertà, nella non produttività e questo è l'elemento che di più ci preoccupa e contro il quale noi vogliamo andare con delle politiche, soprattutto fiscali, adeguate per lo sviluppo dei territori dell'Unione Europea.